E' il potenziale ritorno al nucleare il motivo per cui il WWF Sicilia Centrale rivolge un appello a tutti i parlamentari delle province di Caltanissette ed Enna, da quelli di Palazzo dei Normanni a quelli di Montecitorio fino a Strasburgo, affinché il territorio della Sicilia Centrale non diventi sito di deposito di scorie radioattive. Si ritorna a parlare di energia nucleare e del ritorno del nucleare in Italia. Una discussione assolutamente assurda, non fosse altro perché da anni con i referendum popolari gli italiani hanno detto chiaramente loro no a questa forma di energia così pericolosa. Ma accanto a questo c'è un problema, il problema dello smaltimento delle scorie radioattive. Ebbene, forse in molti hanno dimenticato che la Sicilia e soprattutto la parte interna delle province di Caltanissette ed Enna, da sempre è stata individuata come possibile luogo per un cimitero di queste scorie nucleari. Per questo come WWF abbiamo deciso di allertare tutti i parlamentari per evitare che di nuovo si torni a parlare di energia nucleare e soprattutto di smaltimento delle scorie nelle miniere, nelle altre zone dismesse del nostro territorio. Ed è su queste decisioni che si gioca il futuro dei territori dell'entroterra, mentre si attende di capire se la decisione presa dalla Commissione Europea lo scorso 31 dicembre di inserire l'energia nucleare tra quelle sostenibili diventerà definitiva dopo il vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea.